ciao ragazzi chiedo mi mente venia chiedo venia per la mia assenza del meccoblock di iene tra i yankees e a golf vi chiedo scusa e chiedo venia a tutti ma settimana molto intensa dal punto di vista lavorativo come potete ben vedere che la stanchezza si fa veramente sentire di conseguenza quei pochi momenti di riposo che ho disponibili in una giornata dedico al sonno al sonnecchio profondo perché a me piace molto sonnecchio quindi evitiamo di allarmarsi di dire Giacomo quando è il prossimo blog profilatevi è questione di giorni cioè neanche di settimane di giorni solo solo tra qualche giorno tornerò ci metto un programmino da CNC è molto molto interessante comunque devo dire chiederò anche qualche qualche consiglio a voi tutti dai ragazzi teniamo ancora dieci giorni qui vedete sto fondo di merda me la andrò via la passerolle 12 giorni oggi è 20 due finisco da lavorare 12 giorni meno meno di 12 giorni poi fuori ai coglioni ragazzi dai state tranquilli a tutti bella lì vai così vi auguro una buona giornata basta vi stimo da morire ragazzi per quanto riguarda l'avatar contest non pensate mica che sia finita la eh cioè vi ho dato quasi due mesi per inviare le vostre immagini adesso a settembre appena un attimo di tempo vediamo di pubblicare tutto sul sito c'è veramente ho avuto poco tempo non neanche il tempo di accendere il mac tra l'altro cioè anche finire prepararmi le valigie cioè se io finisco di lavorare martedì mattina martedì pomeriggio arrivo a casa preparavo le valigie mattin sera parto in treno per andare a milano cioè ragazzi veramente cercate di capirvi sono cioè sto sclerando nel vero senso della parola in questo periodo quindi la comprensione comprensione totale oltre che rispetto rispetto ciao ragazzi su macblog vi voglio bene